Buongiorno e benvenuti al telegiornale della Scuola di giornalismo dell'Università di Sassari. La settimana è stata caratterizzata da un'emergenza ambientale nel Golfo dell'Asinara. Dall'olio d'otto che alimenta la centrale di Fiume Santo si sono riversate in mare 18 tonnellate di olio combustibile. L'inquinamento ha investito chilometri di coste raggiungendo le scogliere di Santa Teresa. Nel Golfo riemerge il contrasto tra i poli petrolchimico ed energetico e il Barco nazionale dell'Asinara. Sulle due sponde opposte visioni sull'economia e sull'ambiente. Ma in questi giorni i due mondi sembrano avvicinarsi. L'Eni e la partecipata Novamont intenderebbero investire un miliardo di euro nella riconversione del pollo petrolchimico nei processi della chimica verde. A Porto Torres dovrebbe nascere il più grande impianto italiano per la produzione di plastica biodegradabile. Per ora è un sogno, la realtà ci riporta bruscamente all'emergenza economica. Per la ripresa si contava anche su ingenti investimenti a Fiume Santo ma le notizie non sono proprio confortanti. La crescita del polo energetico più importante della Sardegna è in pericolo. A Fiume Santo la più vecchia delle due centrali elettriche rimarrà in attività e continuerà a bruciare olio combustibile. L'investimento di 800 milioni di euro per smantellare l'impianto e costruire una nuova centrale a carbone è in forse. La multinazionale tedesca E.ON sta rivedendo i suoi piani. I dubbi sull'investimento da questo derivano. La crisi economica e le conseguenze sul tettore di mercato che è uno dei mercati più importanti del paese. La provincia e i comuni di Sasseri e Porto Torres chiedono invece che l'E.ON rispetti gli impegni sottoscritti. L'ingente investimento per la nuova centrale creerebbe per qualche anno centinaia di posti di lavoro nel golfo dell'Asinara. L'arrivo del metano algerino con il gasdotto Galsi darebbe a Porto Torres l'impulso per diventare un polo energetico competitivo. Costruito dall'E.N.L. a partire dagli anni 80 è dal 2009 di proprietà della E.ON. Oltre alla vecchia centrale è in funzione un impianto a carbone che brucia un milione e mezzo di tonnellate di combustibile all'anno. La costruzione della nuova centrale farebbe crescere la produzione e in caso di necessità l'energia potrebbe essere esportata fuori dall'isola. E' infatti già in funzione il Sapei, il nuovo elettrodotto sottomarino lungo 420 chilometri che collega Fiume Santo a Latina. In attesa della nuova centrale, l'E.ON punta alla realizzazione di un impianto per la produzione di energia rinnovabile. Noi stiamo pensando anche ad altre iniziative. Una l'abbiamo messa in campo che è quella del fotovoltaico che è vero che in termini di occupazione ricorrente o operativa porta poco ma nel punto di vista costruttivo investendo 150 milioni di euro noi crediamo che ci sia almeno per sei mesi un'importante rigaduta sul territorio. Poi abbiamo altri progetti e ne parleremo con le istituzioni locali. I cantieri per la realizzazione della centrale fotovoltaica per circa sei mesi potrebbero dare lavoro a 200 operai. Nel frattempo l'olio combustibile continuerà a scorrere lungo gli 8 chilometri di tubatura che collegano il porto industriale alla centrale di Fiume Santo. I rischi per l'ambiente sono altissimi e l'incidente di questi giorni ce lo ricorda. Preoccupazioni da una parte e cauto ottimismo dall'altra. L'economia del golfo registra ogni giorno quest'altalena. Finalmente i dipendenti della Vinil si intravedono il salvataggio degli impianti di Marghera e quelli turritani. Il fondo di investimento Svizzero Gita intende acquisire l'azienda e rilanciare la produzione spendendo 300 milioni di euro. 65 sono destinati a Porto Torres. Per il 31 gennaio è prevista la firma dell'accordo definitivo da Porto Torres Sassari. La circolazione nel capoluogo è fortemente penalizzata dall'inadeguatezza della rete di aria e soprattutto dall'elevatissimo numero di auto. Il trasporto pubblico soffre per l'assenza di una moderna stazione per gli autobus, il cosiddetto centro intermodale. Siamo nel 2011 e Sassari non ha ancora una stazione per gli autobus. Ogni giorno, con qualunque tempo, centinaia di passeggeri attendono i mezzi sulla via periferica Padre Zirani. Il problema è da decenni all'attenzione delle istituzioni e l'Arst, l'azienda regionale dei trasporti, ha a disposizione 40 milioni di euro per realizzare un modernissimo centro intermodale in via 25 Aprile. L'area deve essere bonificata, ma ancora non si è mosso un mattone. I disagi sono arrivati a un punto tale che le organizzazioni sindacali hanno proposto una soluzione provvisoria. Trasferire il capolinea dei pullman da via Padre Zirano all'ex piazza Le Merci delle Ferrovie dello Stato. Qui tutti i servizi potrebbero essere concentrati in un edificio inutilizzato da anni. Gli autobus potrebbero accedervi dalla piazza della stazione per poi rimettersi nel circuito stradale attraverso il cancello che si affaccia verso la chiesa di Santa Maria. Sicuramente l'ubicazione è ideale perché si creerebbe un centro di interscambio plurimodale fra il ferro e la gomma extraurbana, però quel sito, a mia prima valutazione, è un sito abbastanza limitato in quanto non consentirebbe un'egevole rotazione dei bus se volessimo far convergere tutti i bus extraurbani in quel punto. Le perplessità dell'ingegner Fiori, progettista della metropolitana di superficie, sono comprensibili. Sono infatti oltre 500 gli autobus che si concentrano nel capolinea e l'area ferroviaria ha una superficie limitata. In attesa di una decisione e di nuove opere, gli anni corrono e gli autobus sono sempre in via padrizionale. Nella precedente edizione abbiamo riportato la notizia della chiusura a Sassari della tipografia Gallizzi. Oggi torniamo sull'argomento per sottolineare che la città sta perdendo un'azienda storica. Gli inchiostri sono pronti ma i grandi fogli sono rimasti bianchi. Nella tipografia non c'è anima viva. L'attività della famiglia Gallizzi ha infatti chiuso i battenti dopo più di 100 anni. Fondata nel 1892, la tipografia è stata un punto di riferimento importante della storia e della cultura sassarese. Tra i numerosi titoli stampati da Gallizzi ci sono anche le diverse edizioni di Sassari, opera di Enrico Costa, ristampata in occasione del centenario della tipografia. Ha su attivo numerose pubblicazioni. All'inizio della sua attività pubblicava addirittura la nuova Sardegna, ma fra le varie riviste, molte delle quali erano riviste dell'università come Studi Sassarisi, bisogna ricordare la rivista di Antonio Pigliaro, ICNUSA, che veniva stampata proprio dalla tipografia Gallizzi. Per quattro generazioni la famiglia ha tenuto le redini dell'attività. La crisi che sta travolgendo il settore non ha risparmiato la storica tipografia. Il colpo decisivo è arrivato con le cartelle esattoriali di Equitalia. I proprietari hanno perciò chiesto il fallimento e gli ex dipendenti entreranno presto in mobilità. E' un peccato che questa esperienza umana, tecnologica, imprenditoriale e direi soprattutto culturale, chiuda. I Gallizzi non si arrendono, vogliono andare avanti a tutti i costi. Nella tipografia c'è tutta la loro storia. La cronaca registra una nuova udienza al processo per l'omicidio dell'allevatore di Florinas Gianfranco Campus. Il medico legale Salvatore Lorenzoni ha precisato che il colpo mortale fu inferto schiacciando il cranio della vittima con un masso. All'apertura del dibattimento l'imputato Angelo Garau ha rivolto parole minacciose al rumeno Lucinet. Il servo pastore accusato di favoreggiamento si è avvalso della facoltà di non rispondere. La prossima udienza è prevista per il 14 febbraio. Passiamo allo sport, l'Eurospin Torres. La squadra di calcio femminile è in testa alla classifica dopo la travolgente vittoria sulla diretta rivale. La squadra sassarese colleziona record. Continua e inarrestabile la corsa a scudetto dell'Eurospin Torres. Neppure il Tavagnacco, secondo in classifica dietro alle sassaresi, ha potuto fare niente contro la macchina da guerra rosso-blu. Le friulane sono state travolte dal gioco e dal carattere delle torresine. Con un secco 4-1 al Vanisanna, la Torres si è infatti imposta sulle dirette concorrenti. Eurospin Torres che conquista così il record di 11 vittorie su 11 partite di campionato. Le sassaresi hanno mostrato un gioco spettacolare, degno dei più titolati colleghi della serie maschile. Una manovra avvolgente e un pressing asfissiante ha impedito al Tavagnacco di ragionare. Ripartenze fulmine del numero 4 rosso-blu stracchi e una finalizzatrice spiettata, Patrizia Panicco. A lei si devono un gol e due rigori. Abbiamo dato una bella spallata al campionato e poi credo che oltre ad aver fatto un bel gioco c'è stata anche una grande prova di carattere. Siamo proprio un bel gruppo, non è retorica, è vero, siamo proprio un bel gruppo, stiamo bene anche fuori dal campo e questo credo che poi alla fine anche in campo si possa notare. E purtroppo ha mancato il pubblico delle grandi occasioni. Forse anche perché la partita poteva essere vista in diretta su Rai Sport. La Torres femminile continua a essere la compagine sportiva più prestigiosa della città. Sete Coppa Italia, quattro Supercoppe Italiane, due Italy Women's Cup, quattro Scudetti in Baccheca e un quinto che può essere conquistato quest'anno. Se dobbiamo fare un paragone tra il calcio maschile e il calcio femminile, credo che la Torre sia la società più titolata a livello nazionale negli ultimi 50 anni. Ma qual è il segreto di questa società che negli anni ha saputo vincere così tanto? Una politica societaria molto oculata perché è facile fare uno o due anni ai vertici e poi piombare e piombare nell'anonimato. Sì è vero anche la Torre ha avuto degli anni un pochino un po' così dove non ha lottato per il vertici, comunque è sempre rimasta a galla ottenendo accettabili risultati. Il prossimo appuntamento è fuori casa. L'Eurospin si incontrerà con il Bardolino. La discesa verso lo scudetto è già iniziata. Con lo sport abbiamo concluso. Arrivederci alla prossima edizione. Grazie a tutti. Grazie a tutti.